Raga vi ricordate di Rainbow Six Siege nella vita reale? Il primo che ho messo, insomma perché ne ho fatti due di Rainbow Six Siege nella vita reale Ricordate il primo? Quello con 700.000 visitazioni, con quasi 20.000 like, insomma ve lo ricordate no? Quello che, insomma il video che vi è piaciuto più di tutti del vecchio canale perché appunto ero sul vecchio canale Un anno dopo esattamente feci uscire Rainbow Six Siege nella vita reale parte 2 Ecco raga, del primo video di Rainbow Six Siege nella vita reale avevo fatto uscire il backstage Perché appunto avevo chiesto un tot di like per il backstage e appunto ci eravamo arrivati Proprio tanto arrivati, avevo chiesto 100 like e siamo arrivati a 20.000 però Appunto il 25 aprile del 2018 E appunto raga quando mi hanno chiuso il canale e ho riaperto questo qui nuovo Avevo messo come secondo video di questo canale Rainbow Six Siege nella vita reale parte 2 L'ho rimesso su YouTube, la qualità è un po' bassa perché ce l'avevo nel desktop E non ho mai messo il backstage però Sì lo so anche in quel video avevo chiesto un numero di like, ne avevo chiesti 500 Però non posso richiedere 500 like su questo canale Sull'altro potevo ma su questo non posso E niente raga vi lascio a me del passato E niente mi piacerebbe tornare veramente indietro nel tempo Per rivivere quei momenti belli dove c'era il mio canale E quindi vabbè Niente raga vi lascio il backstage Bello 3, 2, 1 Via Rifai Ti ho detto che devi andare più piano e non come un bifo Fai una prova Ho capito come fare Riprendilo Ti abbasso gli occhiali No, si è rotto Vai Tienilo qua Si deve vedere proprio alto così Ok Fermati qua Fin che fai così ti fermi ti blocchi a metà Vai Fermo Vai Perfetto Poi basta che vieni su bene 3, 2, 1 Via Vieni su Veloce Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Più veloce Ok Fermo Accucciati adesso Devi andare verso il bagno e uccidere E lui dov'è? È là No, no, no Lascialo lì Vai accucciati Marco Ancora Sto cazzo di mobile Vai un po' più là Vai Accucciati Ma io com'è che devo fare così? No Accucciati Ti dico io ti sto dicendo se lo fai magari Accucciati Accucciati Vai Avanti piano Ok Vai più avanti adesso Sto registrando sì Fermo, fermo Aspetta Accucciati Mi sono trasportato qui Allora Marco Più distesa Più distesa La testa Ok Accucciati Marco Vai Miralo in testa Aspetta Ti dico io Marco Fermo Tu muovi l'arma Bertuz Silenzio 3, 2, 1 Marco Prova a sparare piano Ok Perfetto Vado Vai Allora Quando Quando Fermi Marco Nico Fermo Con la cazzata Di vita di merda Quando ti faccio così Bertuz Questo vale anche per te Ti hanno scusi Perci Allora Più disto Fermi un attimo E non mi ascoltai Cazzo E mettiti qua A registrare Qua No non tu Tu Io Vado 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 Nico Nintendo Vado Vado Potevi dirmelo Da sopra Mi vedi Con il cazzo Di sensore Oppure sei tu che stai facendo da esterno E magari non so lui è la E tu da qua Oh mi state lì Oh io adesso guardo Ok Eric 3 3 2 1 1 Vieni Eric Ok Prima persona vieni Taglio taglio tranquillo Adesso devo puntare qua Quindi puntami sul coso Se più giù più giù si deve vedere il sensore la mia mamma Ok Per terra più giù Voglio anche se non vedo magari quello che registro Aspetta aspetta voglio fare una cosa Allora Stiamoci tipo un po' qua Tu guardate inquadra un po' il tutto anche dietro Via Non guardare qua mai Piano 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 Ok Fermo Ti inquadra da dietro E adesso vai via per di là Così Fermo però aspetta Vieni qua Dietro Dietro Vai Piano 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 Vai avanti Vai avanti Avanti Fermo lì 3 2 1 Via Con calma Con calma 3 2 1 Via Rifai 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 Mi spiace dirtelo Rifai Vai salta su Può succedere il ragno Dammi il colpo Dai salta su 3 Poi più in qua 3 2 1 Via Rifai Perché No no Tranquillo Se sbagli Non ridere Perché Se no Bisogna rifarla Se vedi che vai addosso lì Vai un po' più là Un po' più là Vedi te Eh sì però c'è la roba Per tutti C'è la marmellata Vai Via Via Vai vai 3 2 1 Non ridere Via Ok Piano salta Ok Fermo lì Ti riprendo Vai Vieni avanti Per di qua Vai 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 dritto Vai dritto Vai dritto Fermo Facciamo una Tipo una ripresa In prima persona E riesci a stare più acuciato Così Sì 3 2 1 Via Perfetto Ok Allora raga Volevo ringraziare Toby Per il backstage Anche Baratto Quindi Baratto Baratto non lo fa Mi ha registrato Perché stage iniziale Quindi ok Andiamo avanti Vai Ok vado giugno Stai fermo Adesso Non muovi Oh Oh Dai non guardarlo Guarda qua Ok Ragazzi dai C'è quel bacio Da culo Di tu Tavi Vieni qua Che sennò Stai dietro la casetta E guarda davanti E non guardare lui 3 2 1 Via Fermo Nico Dietro di me Devi esattamente Però vai più in là Facciamo finta che ti sei spostato Ok però aspetta Non farlo subito Devo registrarlo Che fai l'inclinazione Ok Metto il normale E quando vuoi Fermo lì Ok Via per Tobi Via per Drago Piano Vai avanti piano Ok Bella Tutto Si Starta Non avevo stopato Vai Inizio Vai 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 Aspetta Ok vieni qua Nico Non stoppare Non stoppare Ma lui Dovrebbe andare di prefire Lui Visto che sei dove Visto che sei dove sei Ma io sono bravo di camminare Attaccato al muro Ok Mi devi registrare l'inclinazione E che lo becco in testa Dimmi dove spostare l'arma Deve vederci lui Tutto lui E la mia arma Se stai fermo di muoverti Lui l'arma deve mirare la sua testa Si Muori Cadi per terra Come ho detto io Velocemente Muori Ok Vai Sì Anche dietro Sì Vado Sì Ok Stoppare fammi vedere Allora visto che abbiamo finito di registrare Tocca a Nemo E ti Fa l'ugana Fa l'ugana Mi hai detto però Fa l'ugana Vedi che ta rocco Dio Ok Facciamo così Cos'è che ti avevo detto Già non mi ricordo più Fai figa Sei contento? Scrivo in credito No Ti li Scrivo in credito Ma Crivo in credito di morto Dopo lui Dopo lui devi dire Sei contento di essere morto Beh Prima facciamo Stavolta Oh L'hanno messo male Sei contento di essere morto? Oh tu Carlo Tu Carlo Fai dei versi alla telecamera Tanto potrò fare No 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 Ok Però Nico Senza il cellulare Magari Nico Non sei gay Ehm 3-1 Guardami Ma allora sei contento che ti ho ucciso Chissà che te muori Più alto Beh allora sei contento che ti ho ucciso Chissà che te muori Nemo dai Caupate Caupate Ok vado Vai che caricatore Dai vai ucciderti muoviti Che cosa rompe il caricatore Arrivederci Aspetta non hai finito Siediti Parti 2 Dio da dio Tieni l'iPod L'arma in mano Aspetta Lascialo là il caricatore Ciao Pampi Ok Vai a tutti pronto No No ho sbagliato Dai ragazzi che è quasi buio Non si vede più un cazzo Rifollo Rifollo Perché Ciao Pampi L'ultima volta dopo Basta Zitti Io Sss Beh allora No cos'è che avevo detto Beh allora è stato bello uccisere No sei contento di essere No sei contento di essere Ok Beh allora sei contento che ti ho ucciso Chissà che te muori Eh ancora mi tocca rifarla Tomara è uomo Dio Dio Beh allora sei contento che ti ho ucciso Chissà che te muori Dai un po' Non ti ho sparato un po' in testo Un po' di sangue Non sei contento Ma qualcuno Guarda che caricatore Ok 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 Eh Beh adesso che abbiamo Finito il video dove andiamo In pagliugana nemmo Nemmo in pagliugana A piena nemmo a piena No eh sì In bicicletta In bicicletta In bicicletta Cosa eroi Sì sì Qua grassiera Bravo In pagliugana dai dai Ci sta ci sta Non si trova più il dio Toglio devo tagliala questa Ok Raga Bella roghi Progression Grazie per la visione!